Sono il primo greganti, nel 1993 non mi conosceva nessuno, ora quando vado in giro per la strada la gente mi conosce e dicono qualcuno viene da me e mi dà la mano, qualche altro mi guarda e mi si complimenta con me, qualche altro mi guarda con sospetto e dice alla moglie quello è gregante, deve essere gregante, l'ho visto l'altra sera, io di tutta questa popolarità ne avrei fatto almeno volentieri come potete mai immaginare, però è andata così. Il signor Panzavolta racconta che fino alla metà degli anni Ottanta il PC era rimasto sostanzialmente fuori dal sistema delle tangenti, limitandosi a pretendere lavori per le cooperative rosse, poi però in quel sistema ci entra, per esempio la tangente del signor Panzavolta è finita in alcuni conti svizzeri dai nomi fantasiosi, contogabietta, contosorgente, intestati a primo greganti e 100 milioni li ha consegnati direttamente a lui in contanti, così primo greganti si presenta davanti al sostituto procuratore Antonio Di Pietro. Al mattino comunque mi presento alle 11 in tribunale a Milano e mi accorgo, vedo alcuni militari che arrivano lì e mi è sembrato di riconoscere il fango di casa mia, io abito in campagna, sono un vecchio d'origine contadina, mi piace ancora vivere la campagna, mi è sembrato di riconoscere, erano andati ad arrestarmi con un mandato d'arresto nella notte prima, ho considerato questo un brutto affronto, un brutto modo di iniziare, io volevo spiegare un fatto, naturalmente, ho chiesto di spiegare un fatto e mi si mette un mandato d'arresto e mi si concorda per le lunedì pensi, cosa si voleva, il colpo di teatro, cosa si voleva? Secondo i magistrati del pool di Mani Pulite, Primo Greganti è uno dei principali collettori di tangenti del PDS, prendi soldi per conto del partito, ma chi li versa? Primo Greganti nega, quei soldi non sono un finanziamento illecito, ma fanno parte di un affare con la Cina che lo vede come intermediario. La prassi dell'inchiesta Mani Pulite più o meno è sempre la stessa, un imprenditore parla, mette nei guai un politico, che a sua volta parla e permette di risalire la trafila fino ai massimi vertici del partito. Se questo non succede, finisce in galera finché non parla. Primo Greganti finisce in galera, ma non parla. Primo Greganti resta in carcere per tutto il periodo consentito dalla carcerazione preventiva, ma non parla mai. Nega e continua a negare tutto e non dice niente che possa far progredire le indagini in quel senso. Per la stampa diventa il compagno G, il modello del vecchio comunista che resiste e non parla, mentre altri hanno mollato subito. Il compagno G sta zitto e non molla mai. Sta per crollare, crolla, non crolla, crollerà domani, forse ha detto, non ha detto, adesso vedremo, faremo. Chi è questo Greganti, come mai resiste, non sarà fatto la scuola al coso, sarà dei servizi segreti internazionali, sarà andato a scuola.